Buongiorno dalla redazione giornalistica di Telequattro, benvenuti alla puntata odierna di Sveglia Trieste, vi do un po' il menu di questa puntata, diciamo così, l'ospite che ci raggiungerà dalle 7.30 e rimarrà con noi fino verso alle 8.30 circa, è il direttore della Caritas di Ocesana, Don Alessandro Amodeo. Nella seconda, nella parte, diciamo così, dalle 9 alle 9.30, essendo oggi martedì, parleremo ancora di animali, ci sarà con noi la veterinaria e la dottoressa Fulvia Ada Rossi, poi come sempre, come di consueto, avremo due collegamenti con la sala operativa della Polizia Locale e due finestre, diciamo così, sulle condizioni meteo. Intanto, come sempre, apriamo questa parte della trasmissione leggendo le prime pagine e cominciando a leggere anche le pagine interne dei quotidiani. Il numero di telefono a cui intervenire è sempre lo stesso, 040 31 39 93, potete farlo quando credete. E allora appunto, prima pagina del piccolo. Allora va detto che, per questioni anche facilmente comprensibili, la prima pagina del Corriere della Sera di oggi è abbastanza monotematica, quasi tutta dedicata ancora ai fatti di Parigi, laddove invece quella del piccolo è leggermente più varia. Allora, cominciamo sempre come facciamo di solito, quanto meno come piace fare a me, andando un po' a leggere la cornice che è anche appunto la cosa più varia. Allora, vedremo di inquadrarlo un po' più stretto in modo che possiate leggerlo anche voi con maggiore facilità. Vino, la contesa sul terrano, incontro e disgelo tra Lubiana e Roma. E questo è un passo avanti molto importante rispetto appunto alle notizie di qualche tempo fa. subito sotto il titolo ci sono i consueti tre richiami. Il primo riguarda la politica economica nazionale, tasse sulla casa, esenzioni a figli e coppie separate. Poi c'è un sommario che riguarda invece la finanziaria regionale, lavoro e scuola del Friuli Venezia Giulia, una dote di 56 milioni e quindi, ultimo sommario sotto il titolo della prima pagina del piccolo, ha cherso nuovi approdi per centinaia di barche. Scendiamo e cominciamo l'analisi delle prime notizie che riguardano direttamente la città. Il comune vara la carta a bebè, 300 euro a neonato, è l'articolo di Giampaolo Sarti. Lo smog non cala, stop alle auto fino a giovedì. Il provvedimento è stato prolungato di tre giorni, doveva concludersi, doveva finire ieri, ma appunto va avanti fino a giovedì. Comunque poi dopo ce lo ripeterà anche il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Questa invece è una cosa che riguarda, qualcuno di voi ricorderà, la questione se ne era parlato o se ne era parlato parecchio. Strage di alberi in Barrosandra, taglio idoneo. Venne fuori una polemica non da poco, c'è stata appunto una perizia e diciamo così la cosa sembra rientrare. Va detto che già credo forse un 4-5 anni fa, forse meno, un 3-4 anni fa questa polemica, va detto che già allora molti dissero guardate che al di là della, come si potrebbe dire, al di là del colpo d'occhio abbastanza desolante oggettivamente che si intravedeva dopo il taglio, questo taglio serve. Per cui adesso questo è stato ribadito. C'è da dire anche che il taglio degli alberi è sempre un argomento fonte di polemiche, fonte di prese di posizione. Non ultima c'è stata anche nei giorni scorsi una conferenza stampa in comune per presentare ulteriori considerazioni su questo argomento. Al martedì il piccolo ospita sempre un intervento di Mauro Giacca, il direttore dell'ICGB. La fecondazione, il buon senso è il titolo di questa, dell'intervento di quest'oggi, laddove per quanto riguarda la cultura esce in italiano per comunicarte edizioni il romanzo capolavoro di Drago Janzar, stanotte l'ho vista in una splendida traduzione firmata da Veronica Brezzeri, pubblicato cinque anni fa in Slovenia, accompagnato da un successo travolgente prima in patria e poi in giro per l'Europa, il romanzo dello scrittore di Maribor prende spunto dalla vicenda vera di Xenia Arribar e di suo marito Rado. È bello che questo romanzo sia pubblicato da Comunicarte, che è una pregevole casa editrice triestina, quindi complimenti. Adesso possiamo invece occuparci, chiedo scusa, della parte dedicata ai fatti di Parigi. Intanto con una nota di Franco Grassini, mercati saldi ma la fiducia corre rischi, non c'è stata, come qualcuno fra l'altro temeva, non c'è stato un contraccolpo forte e pesante per quanto riguarda le borse dopo le stragi di Parigi. C'è anche una nota di Alberto Flores d'Arcais, un'Europa troppo silente, vediamo se, casomai lo facciamo dopo, mi prendo un attimo l'appunto perché è curioso anche il titolo, casomai vedremo poi di leggere un pochettino assieme il pezzo e poi appunto, dunque ci sono due richiami forti in prima pagina, il titolo, vediamo, la Francia in guerra, l'Unione Europea ci aiuti, appello di Hollande, l'Isis, chi ci attacca e segnato, preso l'artificiere di Parigi. Rispunta il passaporto del kamikaze, in Serbia un migrante con lo stesso documento del terrorista dello stadio. La foto che vedete è invece dedicata ad un'operazione delle forze speciali di Bruxelles che ha portato quantomeno alla cattura dell'uomo che aveva armato i kamikaze di Parigi. Trieste, le autorità controlli senza esagerazioni, Gorizia arrestato il tunisino col mitra sui social. Io sono incuriosito da questo pezzo di Paolo Flores d'Arcais, adesso vediamo di andarlo a recuperare, la pagina è la pagina 4, vediamo, figuriamoci se poi io trovo queste, eccolo qua, un'Europa troppo silente, vediamo se c'è qualche, quella che resta ancora troppo silente è l'Europa, adesso vediamo di ingrandire sempre a beneficio di chi segue da casa. Allora, abbiate pazienza. Dunque, quella che resta ancora troppo silente è l'Europa per ora, oltre alle solite parole di circostanza, i leader dell'Unione Europea non sono andati, né hanno fatto di meglio i politici delle varie e diverse opposizioni che eccellono in roboanti dichiarazioni da crociati, destinate certamente ad acchiappare voti, ma che non offrono alcuna soluzione ai problemi. La Francia di Olanda, al di là di tanti monumenti e serfi tricolori, viene lasciata sola. È una considerazione molto seria e per certi aspetti anche molto grave, quella di Flores d'Arcais, al di là di tutto c'è da sottolineare appunto ancora una volta la mancanza di una presa di posizione forte anche a livello di dichiarazioni da parte dell'Unione Europea. Tralascio per carità di patria di infierire sul ruolo della Mogherini, ma insomma mai come in questo caso il commissario europeo per gli affari esteri si rivela per quello che è, cioè un ruolo effettivamente puramente decorativo. Allora andiamo invece a leggere la prima pagina del Corriere della Sera che come vi dicevo è quasi monotematica perché è dedicata in gran parte alla questione Parigi. Allora, dopo la strage il Ministro degli Esteri Gentiloni reagiremo insieme, il Viminale, il Ministero degli Interni, chiuso lo spazio aereo di Roma durante il Giubileo, preoccupa e rischio droni, è guerra, l'Europa ci aiuti, si ripete la frase di Olanda, Olanda si appella all'Unione Europea, vuole cambiare la Costituzione, servono poteri speciali, Obama esclude truppe di terra, l'Isis non è uno Stato, Renzi agiamo se ci sono Stati Uniti e Russia, quindi anche qua non c'è un piano comune dell'Occidente o di quello che resta, voglio dire, dell'Occidente per cercare anche di, quantomeno per cercare di dare una sensazione di unità nell'affrontare quello che è un, se non proprio già una guerra, ma comunque un passo avanti, un escalation terrorista che non può che preoccupare. Anche Il Corriere della Sera ha due sommari sotto il titolo, i sorrisi dei ragazzi un attimo prima al teatro Bataclan, prima del concerto e poi sempre per quanto riguarda il Bataclan, la giovane appesa simbolo di speranza. Scendiamo, la Francia e i suoi dubbi, il prezzo di un conflitto è il titolo della nota di Aldo Cazzullo, vediamo se riusciamo a leggere quantomeno l'incipit. La Francia può davvero permettersi di fare la guerra, di pagare il prezzo incalcolabile di un conflitto in Medio Oriente, di bruciare uomini e denaro nella fornace dell'ex colonia siriana, ma soprattutto di resistere ad altri attentati in patria? Sono domande che appunto non sono assolutamente da poco perché implicano ancora una volta la necessità di una strategia. Le indagini, vedete, preso l'artificiere del massacro, così la mente beffò la polizia, Blitz in Belgio e in Olanda ha ancora ricercato l'ottavo kamikaze, Schengen, chi esce sarà schedato e poi c'è un intervento di Neil Ferguson perché non credo alla retorica bellica. Vediamo questo intervento che è abbastanza interessante. Neil Ferguson è un professore di storia a Harvard, ha appena pubblicato una biografia di Henry Kissinger, la ragione per la quale non creda Olanda è semplice. Abbiamo già sentito la stessa retorica guerresca negli Stati Uniti e fra gli alleati dell'America dopo l'11 settembre. C'è stato un dispiegamento di truppi in Afghanistan e in Iraq, nel giro di un anno la situazione ha iniziato a girare nel verso sbagliato, altro che spettati. Abbiamo affrontato questi conflitti con riserve di ogni tipo. Quando siamo stati davvero spietati nei nostri paesi si gridava allo scandalo e questo è un altro punto fondamentale perché è abbastanza logico e abbastanza comprensibile che nell'affrontare determinate situazioni si corre il rischio, diciamo così, di una certa impopolarità a livello interno, a livello internazionale, ma sono rischi che un leader deve essere in grado di prendere, deve essere in grado di prendere e prendersi le sue responsabilità. A proposito di leader e a proposito di responsabilità abbiamo il primo dei nostri collegamenti, c'è la nostra Lady Meteo, oggi è Anna-Lisa Plett che se non facciamo in tempo magari precipita dal balcone per cui diamole subito la linea. Buongiorno Umberto e buongiorno telespettatori, buon martedì 17 novembre. Per oggi sono previste condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti a cratere basso e stratificato, non sono previste però precipitazioni. Le temperature sono in leggero aumento con minime di 11 gradi e massime di 18, venti deboli di direzione variabile, mare calmo o quasi calmo, visibilità da discreta a scarsa con foschie anche dense. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea e ci risentiamo più tardi. Una pecora attorno al... non vedevo delle cose... o la temperatura è discesa bruscamente oppure vabbò chiedo scusa magari qualcuno potrebbe anche offendersi ma cerchiamo di tenere un tono volutamente anche leggero ogni tanto quantomeno per sdrammatizzare un pochettino perché logicamente quello che leggiamo nelle prime pagine dei giornali non è sicuramente piacevole. Vedete che la copertina della copertina della... insomma la foto di copertina della la prima pagina del Corriere della Sera inquadra la Torre Eiffel in bianco, rosso e blu ed è un simbolo se vogliamo anche di rinascita. Insomma Parigi poi è la città della luce, è la città dei colori per cui è un'immagine triste nel contempo ma che appunto contemporaneamente ti fa capire che le cose stanno stanno ricominciando. Subito sotto quasi però a farci tornare ad un clima che certamente non è idilliaco e chissà per quanto tempo non sarà idilliaco Gian Antonio Stella ha compiuto un viaggio all'interno dell'istituto della scuola italiana di Parigi, figuriamoci se non perdevo, della scuola italiana di Parigi raccogliendo anche un pochettino quelli che sono quelli che sono i racconti e le sensazioni dei bambini bambini che frequentano questa scuola e dice nel titolo tra i bimbi sconvolti di Parigi. Vediamo un pochettino adesso se poi andiamo nelle pagine interne dei quotidiani ma vediamo un po' anche se ci sono delle novità dell'ultima ora andando nelle pagine online dei quotidiani. Vedete che Repubblica titola, ripeto questa è la pagina online quindi c'è un aggiornamento piuttosto continuo, Francia ha altre bombe sull'Isis, allerta in Belgio, salta la partita contro la Spagna, ottavo uomo in fuga, la minaccia dell'Isis colpiremo ancora, giallo del tweet, Tolosa nuove perquisizioni, arrestato a Bruxelles l'artificiere, la mente della strage, queste sono le novità che riferisce la pagina online di Repubblica. C'è ancora, ecco per esempio la donna sospesa nel vuoto ritrova il suo salvatore su Twitter, chiedeva aiuto gridando sono incinta e c'è anche il video degli spettatori appesi alle finestre, Babon questo però è qualcosa che non è nuovo, insomma non è certamente una novità. C'è poi questa cosa per esempio che è uscita in questi, credo ieri adesso non vorrei sbagliare, adesso purtroppo non so ingrandire, comunque Anonymous nella caccia all'Isis c'è anche un software italiano, non vi daremo scampo. C'è stato un video in cui una persona insomma con la maschera di Anonymous che poi sapete è la maschera di Guy Fawkes, Guy Fawkes è stato il tizio che nel 600 voleva far saltare per aria il Parlamento inglese ed è diventato un po' il simbolo di chi si ribella, Anonymous si ribella all'Isis e ha annunciato via internet, ha annunciato in rete, quindi fondamentalmente con gli stessi strumenti che anche il califato adopera per la propria miserabile propaganda, Anonymous ha detto noi vi faremo la guerra in rete, aspettatevi attacchi hacker, staremo a vedere anche cosa succederà da questo punto di vista, soprattutto anche se si tratta di qualche cosa di verosimile o se non è appunto anche in questo caso una butata. Il Fatto Quotidiano invece, sempre l'edizione online del Fatto Quotidiano, Francia in guerra, grande coalizione anti-Isis, contro il terrorismo, cambiamo la Costituzione, discorso del Presidente francese Hollande davanti alle Camere di Unite, chi è contro di noi perde sempre, a Bruxelles è fallito il blitz per fermare un latitante, la TV belga ha arrestato l'artificiere delle stragi. C'è un, bisognerebbe appunto, quello che viene fuori da queste prime ore, insomma, dopo le stragi è anche il, diciamo così, virgolette, il ruolo del belgio in questo momento, perché sembra che la capitale belga sia appunto una sorta di, se non di covo, ma comunque sia un territorio molto propizio per la crescita di cellule terroristiche. Del resto, insomma, da tempo il Belgio è ospita appunto Arabi, eccetera, mi ricordo che sono andato in Belgio nel 1987 a Bruxelles e in alcuni quartieri sembrava di essere veramente ad Algeri e quindi voglio dire c'è stato anche tutto il tempo per creare queste situazioni. Va detto anche, logicamente, che tutto ciò è, c'è stata anche un'escalation in questo senso. Comunque, insomma, Bruxelles corre il rischio appunto di passare come una sorta di capitale, quantomeno di chi recluta e forma in Europa questo tipo di personaggi. Vedete che molta parte della prima pagina online del Fatto Quotidiano è dedicata alla questione Parigi, insomma, e poi anche questo, interessante, sul Giubileo non si torna indietro coinvolgere i musulmani. Anche su questo parleremo poi con il nostro ospite, che ripeto è il direttore della Caritas, Don Alessandro Amodeo. Io chiedo intanto alla regia di approntare il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, quando è pronto ce lo fate vedere, cioè quando è pronto mi avvertite nel solito modo. Intanto possiamo cominciare a sfogliare le pagine interne del piccolo e concentriamoci sulla vittima italiana. Lo strazio del fidanzato, Andrea Ravagnani aspetta il nulla a osta delle autorità, oggi a Parigi i familiari, i colleghi dell'università, una ragazza meravigliosa che amava il suo lavoro, gli studenti ricordano tra flash mob e silenzio, e poi c'è un intervento, un'opinione di Michela Marzano intitolata, leggiamo, leggeremo insieme una parte, la grande lezione dei Solesine. Perdere un figlio o una figlia è forse il dolore più grande che possa toccare un essere umano, quello che lascia senza parole, che spezza il mondo. Quello stesso dolore che solcava ieri il viso della mamma di Valeria Solesine, che le faceva tremare la voce, quello stesso dolore che nemmeno per un istante ha portato questa madre a lasciarsi andare alla scompostezza e al clamore. C'è anche questo da sottolineare in questa triste e drammatica circostanza. Molto probabilmente così sono abituati a vivere i genitori di Valeria, con dignità, con umanità, con senso civico, dando a tutti noi una vera e propria lezione di civiltà. Proprio nel momento in cui la violenza e il terrore di alcuni islamisti radicali vorrebbero imporre la barbarie e farci dimenticare che ciò che rende possibile la convivenza umana è l'accettazione reciproca e l'umiltà, questa famiglia reagisce al dolore più grande ricordandoci che nessuno dovrebbe rogarsi il diritto e dirubarci la nostra libertà di uomini, donne e cittadini. Sono delle belle parole che vanno però, voglio dire, vanno a sottolineare il carattere di questa famiglia. Allora c'è pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, credo ci sia in linea il maresciallo Roberto Leonardo? Pronto? Sì. Buongiorno. Mi sentite? Sì, 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 perfetto, non la sentivo. Le cedo la linea maresciallo per le consuete comunicazioni di quest'ora del mattino e anche poi, logicamente, per ricordare che, a meno che non siano intervenute delle novità, ma non credo, anche oggi vale il divieto di accesso, diciamo così, al centro storico nel pomeriggio, se non mi sbaglio, no? Sì, esattamente, è stata reiterata, perciò continuo anche per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì con gli stessi orari, dalle 15 alle 20, notata nella norma, al momento nulla da segnalare, l'unica cosa che volevo segnalare è che oggi iniziano i lavori di asfaltatura dei marciapiedi in via Roma nei tratti in corrispondenza della via Machiavelli e della via Massidi, con un possibile restricimento della carregiata, comunque avremo un personale in zona e altro non avrei proprio nulla da dire. Posso fare una battuta? Tanto là la carreggiata è sempre stretta perché c'è sempre qualcuno che mette la macchina in seconda fila, per cui ormai siamo anche abituati a questo tipo di cose, ma insomma, ma questo lo dico io. Ancora una cosa soltanto, maresciallo, il provvedimento di chiusura del traffico può essere, diciamo così, può essere sospeso se il tempo dovesse migliorare oppure non ho mai capito se una volta emesso va avanti in ogni caso. E' successo già altre volte che a causa delle condizioni atmosferiche mutano l'arpa legge le centraline. Quindi potrebbe essere magari sospeso se... L'unica cosa che ci può aiutare è che sa benissimo cosa è quattro e se... Ah beh, sì, labora. Poi quando viene diciamo... eccetera. Ok, maresciallo ci sentiamo se lei è d'accordo dopo le 8.30. Quando vuole sono qua. Grazie molto al maresciallo Leonardi, arrivederci. Allora ricordatevi che è, voglio dire, che è confermato il divieto di accesso al centro, cioè la chiusura del centro per questioni collegate all'inquinamento, collegate allo smog. Ancora, pagina interna del piccolo, che cosa c'è nella mente del terrorista? Esame psichiatrico all'ISIS. A livello individuale, nessuna patologia, un folle ideale di gruppo. Insomma, io non vorrei fare battute, però è abbastanza evidente che cosa ci sia nella mente di un terrorista, per cui è meglio non approfondire. Attacco all'Europa a quei terroristi reclutati sulla rete, la minaccia jihadista in Italia nella relazione dei servizi segreti, arruolati giovani competenti di informatica, chiesto il processo per Fatima, l'italiana latitante in Siria, e la procura di Milano ha chiesto il processo per Maria Giulia Fatima Sergio, il padre Sergio, la sorella Marianna e altri otto accusati a valio titolo di associazione per delinquere con finalità di terrorismo e favoreggiamento. E qua, Giubileo, attenti al rischio dei droni. È naturale che il livello di preoccupazione possa crescere, in coincidenza con l'imminente avvio del Giubileo. Lo ha sottolineato in una informativa alla Camera il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ricordando come la pianificazione dei relativi dispositivi di sicurezza si concentra sui punti più a rischio a cominciare da Piazza San Pietro, dove confluiranno masse imponenti di pellegrini, soprattutto in occasione delle cerimonie più significative. Questo ha detto Alfano. Vediamo se riusciamo un pochettino. Eccolo qua, Kamikaze, il passaporto rispunta in Serbia. Arrestato un migrante che esibiva un documento identico, tranne la foto, a quello trovato a Parigi, paesi balcanici. Immutate le politiche migratorie. C'è un battibecco, diciamo così, fra l'On. Federica e Antonella Grimm in qualità di segretario regionale del Partito Democratico. Basta a clandestini. Vediamo sempre di ingrandirlo anche per voi a casa. Dovevamo ingrandirlo ancora un pochettino di più. Polemica politica. L'allarme che la Lega Nord lanciava da tempo, ovvero il rischio di arrivo di fondamentalisti islamici via l'incontrollato afflusso dei clandestini, si è dimostrato fondato. Questo dice Fedriga, la Grimm è molto dura nella replica, anche in un giorno di lutto dalla Lega piovono solo slogan e ricette semplicistiche che nulla hanno a che fare con la soluzione dei problemi e molto con la propaganda. Siamo arrivati alle 7.30, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Subito dopo sarà con noi il direttore della Caritas di Ocesana, Don Alessandro Amodeo. Seconda parte di Sveglia Trieste, saremo insieme fino alle 8.30 circa con Don Alessandro Amodeo che è il direttore della Caritas di Ocesana. Buongiorno Don Alessandro, grazie per essere venuto a trovarci. Il numero di telefono a cui intervenire è 040 31 39 93. Intanto incominciamo a parlare. Quando ci eravamo messi d'accordo per l'ospitata, a metà della scorsa settimana non erano successe tutti i drammatici fatti parigini che adesso impongono tutta una serie di riflessioni. La prima, si era parlato nell'imminenza degli attacchi, eccetera, di, non so poi il termine quale potrebbe essere, di sospendere, di annullare, posticipare, eccetera, rimandare il giubileo il giubileo della misericordia. Mai come in questa circostanza questo appuntamento diventa affermazione anche di sé, affermazione anche delle proprie radici culturali, eccetera. e anche chi per i motivi più diversi si era anche o si sarebbe dichiarato contrario all'indizione dell'anno santo, adesso dice no, è un momento dove non si può transigere anche perché o ve lo facessimo sarebbe una resa, insomma. Ma, beh, intanto buongiorno carissimo Umberto, buongiorno agli ascoltatori che a quest'ora ci guardano. Ci possiamo dare del tu? Sì, 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 noi qua vale la regola che se ci si dà del tu fuori... Ti ringrazio per questa grandissima considerazione nei miei confronti tale da chiedermi se vale spostare la data di un evento che è stato niente meno che deciso dal Papa. Ho visto peraltro che anche altre persone si sono arrampicate su questo versante e al di là è una semplice battuta naturalmente. L'evento del giubileo è un evento di fede. È un evento di fede voluto dal Santo Padre, ma soprattutto quando il Papa prende una decisione di questo tipo la prende perché? Perché è in profonda comunione non soltanto con i Vescovi, ma perché sente e percepisce l'esigenza del popolo cristiano. Cioè il Papa legge una realtà che trova nel mondo attuale in questo momento la realtà del bisogno di perdono, forse di perdonare e di essere perdonati. E pertanto prende questa decisione certamente non a cuor leggero, ma la prende intanto con il dono dello Spirito Santo e in secondo luogo la prende nella realtà in cui viviamo, nel tempo in cui viviamo. Per cui ecco, se devo essere sincero, io sposterei il discorso. Certamente il giubileo è un evento, un evento mediatico, è un evento sociale perché ha dei riflessi sociali molto forti, perché naturalmente... Però ecco, faccio ad esempio osservare un fatto. Per la prima volta nella storia recente della Chiesa, il Papa, adesso usiamo un termine moderno, ha indetto un giubileo diffuso, cioè non c'è più la necessità di andare fisicamente a Roma, ma in ogni diocesi del mondo vengono disposte alcune chiese, anche nella nostra per dire, dove si possono ottenere gli stessi effetti che si avrebbero visitando le chiese romane. Questo già la dice lunga sul fatto di come il Papa abbia preso atto certamente anche di una situazione internazionale. Una situazione internazionale che naturalmente ci fa essere prudenti in quelli che sono gli spostamenti, i viaggi, e soprattutto anche se positivi, ma comunque i grandi ammassamenti di persone. Certamente bisogna stare un po' attenti con questa filosofia, allora non dovrebbero esserci più nessun tipo di manifestazione sindacale. Ma guarda, il 1 maggio deve essere eliminato. Cioè, bisogna stare un po' attenti a generalizzare questi eventi, per certi eventi. Io dico una cosa, adesso è a livello così, ma nemmeno di Butad, ma nemmeno di considerazione. Io starei attento, e può sembrare come dire, si parva l'Icet, ma io starei molto attento, per esempio, con le prime del prossimo capitolo di Guerre Stellari. Se vale il discorso... Attenzione, perché prendiamo una piega, è veramente pericolosa, nel senso che non vorrei che fossimo tacciati di terrorismo immediato. Però ricordo che, ad esempio, due settimane fa, alla prima di un film di fantascienza, si è presentato uno negli Stati Uniti, vestito da uno dei personaggi del film, tutti credevano fosse uno spot pubblicitario, in realtà era uno che ha tirato fuori un'arma e ha ucciso, mi pare, una ventina di persone all'interno della sala cinema. Ecco, io non voglio fare assolutamente né terrorismo psicologico, né preventivo, né successivo. Semplicemente questa è una notizia che è stata riportata. Sono dati... Io direi una cosa, penso che l'evento, adesso senza fare tanta storia, però penso che in fondo in fondo l'evento dell'11 settembre sia stato quell'evento rivelativo di come anche grandi paesi, molto forti, che davano un'immagine molto severa di sé, alla fine abbiano ricevuto forse una delle peggiori lezioni in assoluto che è quella di farsi succedere in casa le cose. È un po' come quando succedono quei casi dove una famiglia perfettamente a posto secondo i criteri, che poi non si sa bene quali sono, ma secondo criteri oggettivi comuni, succede all'interno un fattaccio per il quale nessuno si spiega. Poi intervistate voi giornalisti, intervistate i vicini, una famiglia normale, una famiglia normale, distinti, aiutavano i prossimi, eppure è nato un pasticcio clamoroso. Questo è stato, certamente è iniziato con l'11 settembre, penso poi all'attentato alla metropolitana di Londra, naturalmente altri eventi, penso... Madrid. Esattamente. Quindi tutta una serie di cose, naturalmente cose, come si dice in inglese, increasing, cioè che sono aumentate nello spazio e nel tempo, e che ci mettono in guardia su tutti i tipi di eventi. Naturalmente penso un altro evento, le giornate mondiali della gioventù. Io ho partecipato a cinque giornate mondiali della gioventù, più di un milione di ragazzi. In fondo in fondo, quando in Norvegia, se non sbaglio, quel pazzo scatenato, aveva... perché alla fine basta uno. Perché alla fine basta uno. Perché alla fine basta uno. No, questa è la realtà. Allora, arriviamo, andiamo su Trieste, cioè andiamo adesso un po' a livello locale. 300 euro a neonato, l'amministrazione comunale raddoppia gli aiuti ai neogenitori con ISEE sotto i 20 mila euro, il bonus si potrà spendere dal primo dicembre nelle due farmacie comunali. È una misura, diciamo così, presa dal comune che si inserisce in un quadro generale, in un contesto appunto che giustamente peraltro poi viene commentato così, risposta preziosa ai bisogni delle famiglie. Allora, Caritas vive all'interno all'interno delle famiglie, vive all'interno, sì, diciamo, è giusto, credo, come... Certamente. Come... C'è un momento in cui le iniziative di solidarietà, le raccolte, le raccolte di fondi, eccetera, a diversi livelli, ottengono un notevole successo, il che testimonia la generosità dei triestini, soprattutto quando è una generosità che può essere espressa in forma anche abbastanza anonima, cioè senza farsi vedere per certi versi, sottolineano però anche la condizione di necessità, in cui molte famiglie nella nostra città si trovano a vivere. E' più... Qual è la realtà? E' grave come noi che la viviamo da giornalisti, quindi da fuori, è grave come noi la immaginiamo? Oppure... O lo è addirittura di più per certi aspetti? Allora, guarda, in questa tua frase iniziale, in questa proposta di colloquio, hai toccato tre punti, a mio modo di vedere, veramente interessanti e fondamentali proprio su questo argomento. Beh, il primo punto è un plauso a questa amministrazione, la quale mette in campo questo benefit, mi sembra si dica oggi, se non sbaglio. E certamente, devo essere sincero, non credo che una coppia decida o no di avere un bambino, se ci sono o no i 300 euro, naturalmente questo non aumenterà, non farà fare la fila al burlo, tanto per capirci. Però è un segnale estremamente potente positivo, che in un tempo così difficile, di crisi, ed un tempo così, diciamo, complicato, soprattutto per i giovani, per le coppie giovani, per coloro che desiderano mettere su famiglia, per coloro che desiderano una maternità, è importantissimo che ci sia una risposta come questa. Quindi penso che sia veramente una notizia estremamente positiva, veramente un plauso a chi l'ha messa in campo, perché è un atto di grande sensibilità verso la cittadinanza. In secondo luogo, un altro punto molto importante, a mio modo di vedere, è il fatto che hai citato la Caritas come presente sul territorio, questo è il must della Caritas di Trieste, noi non siamo assolutamente avulsi dalla realtà, ma siamo presenti sul territorio in molti modi, perché abbiamo tante strutture, abbiamo soprattutto tanti servizi, penso uno per tutti, il nostro centro di ascolto di Via Cavana 15, penso alle Caritas, più ai servizi Caritas che ci sono in qualche parrocchia, penso alla mensa dove accogliamo le persone che vengono a mangiare in via dell'Istia, cioè una serie di presenze sul territorio che ci mettono a contatto con esigenze, ma nello stesso tempo anche con le possibilità che le istituzioni danno per risolvere o quantomeno per fronteggiare queste esigenze, quindi una Caritas presente al mondo, tanto per capirci, non chiusa, non relegata da qualche parte, ma estremamente attiva. E il terzo punto che hai toccato, velocemente ma molto interessante, la caratteristica dei triestini, cioè il fare del bene in silenzio. Io credo che questo sia un punto, veramente un vantaggio per il triestino e per questa città. Molte volte noi siamo abituati a sentire reclame, pubblicità di grandi eventi o di cose che poi se uno va a leggere attentamente fra le righe, insomma sono cose importanti perché a Trieste c'è un detto, lo diceva mia mamma, ogni piada sburta, nel senso che anche un piccolo aiuto dà una mano, e questo è innegabile, certo, però un aiuto fatto nella discrezione, in silenzio, nella carità, anche in quella dignità che molte volte non c'è più e il silenzio invece dona dignità, un aiuto che non vuole essere nascosto, ma vuole essere serio. Ecco, questo io da direttore della Caritas posso dirlo che è presente in questa città, questo stile e questo è uno stile che ci fa onore. Diamo anche un po' di cifre, intanto c'è anche questa notizia da sottolineare, spunta un tesoretto, l'assestamento di bilancio arriva al voto dell'Aula, a sorpresa ci sono 2 milioni e 300 mila euro in più da assegnare e questo anche… Alla Caritas? No, anche i giornalisti magari. Anche perché è un periodo in cui… Vabbè, ma insomma è una battuta… Io penso che fra di noi è una battuta… No, no, ma mi viene veramente un'altra, perché è un periodo in cui molti giornalisti in questo periodo diventano papà, mamme, eccetera, quindi insomma… Auguri! Sì, 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 è un bel periodo per tutti i giornali. Ma anche noi, in Caritas, ad essere sinceri, abbiamo avuto dei matrimoni, abbiamo avuto persone che hanno avuto un bambino, i nostri collaboratori, la vita va avanti, ma soprattutto ci dà il sapore un po' di quello che vuol dire anche essere famiglia, comunità e così vivere un po' anche della vita degli altri positivamente, non soltanto. Allora, facciamo un… No, mi hanno fermato un po' di conti anche per quanto concerne la raccolta alimentare che voi avete organizzato, quella è una data che… Due settimane fa, due sabati fa, cos'era? Era il 7 di novembre, sabato 7 novembre, eravamo… Dieci giorni fa, dai, così. Ieri c'è stato un articolo sul quotidiano locale, veramente un articolo che ha detto chiaramente le cose come sono andate, devo essere sincero che sono andate molto bene, perché quello che dicevo prima, la generosità e la disponibilità si è fatta estremamente sentire dal momento che abbiamo raccolto in un giorno 16 tonnellate e mezzo di prodotti alimentari non deperibili. questo attraverso la disponibilità di 26 gestori di supermercati, ma vorrei mettere l'accento su un punto che a volte è un po' sfuggente. E il punto è questo, noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto questa raccolta con più di 400 volontari, direi 450 volontari che ci hanno dato una mano. Al di là dei numeri, di quanto abbiamo raccolto, di quanti supermercati abbiamo avuto, al di là di tutto questo, io penso a questo enorme capitale umano di persone che… e anche c'è un indotto umano. Cosa voglio dire? Voglio dire che se un padre di famiglia o una mamma decide di un pomeriggio di dedicarlo alla Caritas, il sabato pomeriggio, o di dedicarlo a chi alla fine riceverà questi aiuti, di fatto, sappiamo benissimo, blocca tutta la famiglia. Perché magari una famiglia che sarebbe andata a fare una passeggiata, una famiglia che avrebbe fatto un weekend, cinema, o semplicemente a fare la spesa per la propria famiglia, per cui di fatto viene una persona ad aiutarci, ma si fermano altre tre. Quindi c'è un indotto molto, molto forte, per cui un capitale umano immenso. che si è rivelato in questa città, anche, devo essere sincero, approfitto di questa occasione, si può fare un ringraziamento. Come? Allora, ci hanno aiutato tantissimi, però c'è un gruppo su… è stato aperto un gruppo su social network, su Facebook, ad opera di una persona che io conosco, si chiama Alan Domancic, e devo essere sincero, ha tirato su una valanga di persone. si chiamava proprio gruppo di volontari per la raccolta alimentare della Caritas. Ecco, io a volte, io non guardo Facebook, lo guardo a volte così, magari c'è qualche commento su di noi, o qualche osservazione, però è stato un gruppo che ha tirato su una valanga di persone che altrimenti veramente noi non saremmo, per certi versi, riusciti a contattare. Poi, grazie alle associazioni, penso alla protezione civile che ci ha portato addirittura i propri mezzi, gli strumenti, i loro camion, le parrocchie che hanno offerto i pulmini per i trasporti. Ecco, devo essere veramente grato a tutti, a tutti, perché abbiamo avuto, e poi tante associazioni, penso, ecco, c'è stata perfino l'associazione di persone ammalate, perché abbiamo avuto un forte aiuto dall'associazione Pegaso delle persone ammalate del morbo di Parkinson. Ecco, pensare che un'associazione di persone ammalate venga ad aiutare un'iniziativa simile, penso sia un esempio molto importante. Abbiamo avuto i marinai d'Italia, abbiamo avuto tantissime associazioni che si sono, adesso sicuramente avrò lasciato fuori qualcuno, ma è la colpa immediata per questo fatto, però, devo essere sincero, ci sono stati. Senti Don Alessandro, quando si parla, si parla molto della Caritas in questo periodo, soprattutto per quanto riguarda appunto l'accoglienza degli dei chiedenti asilo, rifugiati, poi anche sui nomi c'è tutta una una diatriba, come dice Paolo Picchieri. Perché è giusto dire diatriba, non diatriba, ma comunque, insomma, molte volte noi riceviamo telefonate appunto, oggi un po' strano che non ci siano telefonate su questo argomento, ma io ho una mia teoria anche sul perché non ce ne sono ancora. Comunque, ci sono delle cose da specificare anche magari, e magari alcune possono possono essere delle mide, possono venirmi da cose che sento, eccetera, no? Per esempio, molti spettatori, molti spettatori, molta gente dice questi hanno il cellulare, no? Io ho letto e sono cose sulle quali non si riflette molto, però, se uno, oggi come oggi, se uno scappa di casa, se uno lascia a casa sua, no? Per tutta una serie di cose, io credo che la prima cosa che si porta presso è il cellulare, non credo sia un simbolo di uno status particolare, eccetera, ce l'hai perché immagini che sia l'unico modo che puoi avere per cercare di contattare ciò che resta della tua famiglia, io non credo che questo sia, per altre cose possono, c'è una telefonata, Don Sandro, sentiamo quello che dice la persona e poi dopo eventualmente rispondiamo, pronto? Buona giornata, prego, buongiorno, visto che come associazione ho partecipato alla raccolta alimentare, volevo chiedere a Don Sandro, per quanto riguarda la raccolta in generale, c'è stato un contributo anche da parte dei gestori dei supermercati? Buongiorno, sì, devo dirle che su questo numero dei supermercati che io ho citato, che sono 26 punti vendita, qualche punto, non tutti naturalmente, però devo dirle che qualche punto vendita, non so se si può dire quale perché non vorrei scadere nella pubblicità, no, non facciamo pubblicità, no, ecco, però il giorno della raccolta ad esempio un punto vendita ci ha donato mille bottiglie d'acqua e improvvisamente tra l'altro senza preavviso eravamo lì un punto vendita che in altre occasioni di raccolta alimentare ci ha regalato ad esempio non so, tre bancali di uova di Pasqua o tre bancali, cioè un punto molto generoso e altri punti vendita magari ci danno meno cose, però devo essere sincero proprio a livello di bancali espositore in cartone contenente cibi o magari quelle cose a volte anche per bambini così, sai quegli espositori che si trovano all'inizio delle corsie così, sì, devo dire che c'è stata una risposta anche in questo senso, certamente. Ok. Io sono intervenuto perché in occasione della raccolta c'erano, c'erano alcune persone che appunto chiedevano questo fatto, quindi volevano sapere se il supermercato contribuiva in qualche modo alla raccolta alimentare. Abbiamo risolto. Comunque la risposta esaurantemente e la ringrazio Sandro, buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie a lei che ci ha dato una mano, grazie davvero. Prego. Buona giornata. Allora, riprendiamo il discorso, proprio questa storia dei cellulari. Ma allora, adesso io dico una cosa che non voglio, prego chi ci ascolta di capire che è soltanto una mia opinione e non voglio assolutamente aprire né polemiche né niente. A me capita di girare un po' l'Italia, a volte anche l'Europa, ma l'Italia prevalentemente per incontrare altri direttori Caritas, così, e girando naturalmente uno le cose le vede e si si accorge. Ad esempio a Torino c'è un mercato dove tipo Fiera di San Nicolò ci sono bancarelle dove vendono cellulari questa è una mia personale opinione della quale me ne assumo la possibilità a mio modo di vedere rubati perché dentro hanno ancora i messaggini del proprietario precedente dove ad esempio con pochissimi euro una persona si porta a casa un iPhone 5 che io ad esempio non ho perché io ho un telefono cellulare in regalo anche perché io sto circa un anno e mezzo per capire come funziona quindi per me la peggiore delle cose che mi può accadere è perdere il telefono ma nel senso di dover imparare di nuovo ad usarlo quindi ecco voglio dire cosa voglio dire con questo voglio dire che se c'è un bene che nella società civile odierna è riuscito a piazzarsi totalmente quello è il telefonino per cui pensare oggi che il telefonino sia uno status symbol anche il telefonino con wifi tanto è vero perché dico questo perché abbiamo la prova in quello che successivamente qualsiasi città del mondo risponde cioè il wifi pubblico perché un comune dovrebbe impegnarsi sul wifi pubblico semplicemente perché ormai il telefonino con wifi ce l'ha nonna Maria e ce l'ha il bambino che va in prima elementare è una cosa comunissima e naturalmente capisco benissimo il cittadino che vede fuori dalla mensa o fuori da certe strutture o dalla stazione e così vede ad esempio una fila di persone con il telefono in mano c'è un perché in via dell'istria il telefonino nella struttura Caritas misteriosamente non prende quindi veramente l'ho provato non più tardi di ieri quindi recandosi in strada il segnale c'è non chiedermi perché perché questo è mistero e tecnologia sì come avevo visto non ho capito se c'è una telefonata sì allora prego il telespettatore di essere abbastanza breve perché saremmo già in pubblicità e poi rispondiamo al rientro della pubblicità buongiorno 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 prego io vorrei esprimere la mia indignazione premetto che provengo da una famiglia catolicissima ma io sono atea quello che mi indigna è chi ha tolto il croce fisso dalle classe chi non fa il preseppio chi al museo non va in una sala perché c'è un Cristo in croce mi indigna perché non dovrebbe essere discriminatorio anche se un islamico o un altro qualsiasi di un'altra religione veda queste cose ok perfetto mi indigna moltissimo perfetto grazie arrivederci dopo la pubblicità la risposta allora eccoci siamo di nuovo in diretta con Don Stefano Don Alessandro Amodeo direttore della Caritas abbiamo in ballo diciamo così una risposta alla telefonata della signora di prima che poneva anche un problema non da poco certo quando la signora ha usato questo termine così forte sono indignata voglio farti una confidenza mi faceva piacere siccome ho capito signora finalmente esiste uno che ha anche il coraggio di dirlo e questo però io penso a una cosa ci sono vari aspetti uno può essere anche un aspetto culturale oltre che l'aspetto religioso ecco già l'aspetto culturale a mio modo di vedere non dovrebbe permettere la così il togliere questi segni faccio un esempio è come se ecco io ho avuto occasione di viaggiare sono stato ad esempio non so in Estremo Oriente in una moschea non mi sono non mi sono neppure sognato di non entrare perché io sono cristiano io andavo a vedere la moschea andavo a vedere una cultura andavo a vedere una religione per cui ecco oggi una persona che c'era su facebook mi sembra che questa mattina possiamo fare una battuta e c'era su facebook ieri sera c'era questo un box dove una persona diceva a coloro che vogliono togliere il crocifisso delle scuole li invito a non assentarsi dal lavoro durante le vacanze di Natale ma li invito ad andare a lavorare il giorno di Natale li invito ad andare a lavorare a Pasqua esatto le feste comandate dal momento che se non gradiscono i simboli religiosi non devono gradire neppure i benefici o magari le facilitazioni che questo ci dà ecco questo naturalmente sia chiaro che è una battuta semplice pure semplice però oggi siamo molto a volte la dialettica si fonda anche su queste cose ecco così c'è un'altra c'è un'altra telefonata pronto voglio dare buongiorno al dottor Roberto Bonazzi al direttore della Caritas Don Alessandro Amodeo sono Claudio Buongiorno Claudio buongiorno volevo solo dire grazie un grazie grande di cuore a questo grande sacerdote che fa tanto del bene a tanti concittadini in difficoltà e che stride magari con i superatici di certi cardinali lui Don Amodeo con il suo esempio e mi piace citare anche Don Mainati avvicina certamente le persone alle chiese di Papa Francesco che cerca di fare politica felice di averlo conosciuto di averlo stretto la mano di averlo parlato con lei alla festa di vita nuova siamo anche amici su Facebook ma questo ecco mi saluto e buon lavoro grazie ancora grazie signor Claudio buona giornata signor Claudio lei mi fa rossire io la ringrazio e certamente ognuno cerca di fare meglio che può ecco forse più che grande sacerdote voleva dire grosso sacerdote e questo magari visto le mie dimensioni ma credo sia un giudizio più adatto ecco la ringrazio di cuore le auguro buona giornata anche a lei c'è un'altra telefonata? no c'era un sottofondo il sottofondo precedente ecco poi una delle cose che saltano fuori molto spesso quando parliamo io torno un po' all'argomento all'argomento immigrati eccetera e noi questo crediamo speriamo auspichiamo di avere presto qualcuno di Trieste Trasporti per discutere anche di questo però mi faccio io portavoce di quello che viene detto e molto spesso questa storia che diciamo così se un immigrato non è in possesso di un biglietto non verrebbe sanzionato eccetera io non so se questo se tu puoi rispondere puoi intervenire in tal senso eccetera allora posso intervenire tranquillamente forse anche è il momento di mettere un pelino di chiarezza ok allora nella noi siamo anche non soltanto anche uno dei due enti gestori che il comune di Trieste ha investito ha scelto per la questione dei richiedenti asilo e rifugiati per questo motivo abbiamo firmato una convenzione dove a fronte di una cifra che riceviamo pro die pro capite cioè per persona al giorno abbiamo l'obbligo verificato da parte degli enti di fornire alcuni servizi uno di questi servizi è l'abbonamento rete per ogni persona che accogliamo l'abbonamento rete di Trieste Trasporti adesso io già immagino che qualcuno come anche io ho fatto e sia chiaro non ho nessuna vergogna che qualcuno magari dirà tutta la vita che lavoro io l'abbonamento della rete devo pagarmelo Umberto mi dispiace ma questa è una convenzione che non abbiamo fatto noi e neppure l'ICS questa è una convenzione di servizi che alla quale abbiamo aderito e abbiamo l'obbligo di rispondere quindi che cosa io devo fornire a queste persone molto onestamente non le abbiamo scelto noi ma sono dei servizi che provengono dal ministero inutile prendersela con il comune di Trieste o con i politici ovviamente in questo momento con la giunta comunale o con i politici del partito democratico è una pista sbagliata che non c'entra niente non c'entra questa è una decisione alla quale il comune che ha fatto a sua volta un accordo con la prefettura anzi il contrario la prefettura ha fatto accordo con il comune ma hanno risposto ad un accordo quindi tutta la querelica è venuta fuori anche una querelica che c'è a livello politico io mi meraviglio per certi versi che qualcuno possa credere che in sede locale si possano modificare delle regole che sono date in sede nazionale questo non esiste non sta nel cielo né in terra e invece io purtroppo vedo che c'è una forte speculazione anche a livello di informazione dove si fa si fa credere alla gente cose che non sono vere una per tutte questo del biglietto di Trieste Trasporti noi paghiamo per ogni persona che abbiamo paghiamo la tessera a Trieste Trasporti posso io parlo in questo momento per Caritas Trieste forse saremo considerati scusate la parola dei Fessacchiotti ma quando i nostri accolti arrivano con una multa perché hanno scordato l'abbonamento non perché non ce l'hanno perché ce l'hanno perché viene consegnato con tanto di firma per ricevuta perché poi io ho l'obbligo di dimostrare che l'ho dato che modo ho per dimostrare fare una fotocopia dell'abbonamento con il nome e la ricevuta che l'hanno la firma per ricevuta quindi è tutto alla luce del sole tutto trasparente questo è tranquillissimo bene se arrivano con la multa Caritas Trieste paga la multa ok ecco questo posso dirlo con chiarezza mi permetto di fare solamente un conto già che siamo qua a Trieste facciamo un conto in questo momento a grandi linee ci sono circa più o meno più o meno 800 rifugiati di questi 800 rifugiati sappiamo benissimo che circa un centinaio questi sono conti con numeri grossolani e sia chiaro circa un centinaio sono i cosiddetti senza destinazione cioè le persone che ancora non sono accolti in una struttura ma attenzione li conosciamo per nome e cognome e vengono a mangiare alla mensa quindi per certi versi sono come si dice monitorati degli altri quindi siamo arrivati a 700 di questi 700 che fanno che detto per inciso 126 sono in carico alla Caritas e il rimanente all'ICS tutti hanno l'abbonamento dell'autobus un abbonamento dell'autobus vorrei dire che noi acquistiamo dall'edicolante ho capito qui è con soldi veri cioè la nostra contabile va con i soldi in mano ad acquistare gli abbonamenti ad ero ora se un abbonamento costa 35 euro al mese se non sbaglio mettiamo 34 virgola qualcosa chiunque a casa può fare il conto per vedere quanto questi due enti Caritas 6 CS danno ogni mese giustamente sia chiaro giustamente a Trieste Trasporti e dico ancora una cosa questi soldi ovviamente sono soldi che rimangono sul territorio perché vanno a Trieste Trasporti per cui noi non acquistiamo con bonifico non acquistiamo pagando fra tre mesi fra quattro mesi noi paghiamo noi acquistiamo il biglietto dall'edicolante della strada più di così non so c'è un'altra c'è un'altra telefonata pronto buongiorno Bruno qua buongiorno ecco volevo dire è molto tranquillizzante quel che dici là il reverendo diciamo dal punto di vista laico lui parla come un buon padre di famiglia dal punto di vista ecclesiastico diciamo che la Cesa fa il suo mestiere per quel che ha detto adesso in merito alle spese e alla gente che dici vuol mettere il naso sulle spese perché perché ha avuto la dimostrazione che queste spese questi soldi pubblici sono stati sperperati vedi mafia capitale Roma capitale cosa è che ha fatto con questi soldi c'è intere associazioni che lucra su questi profughi non volevo ecco in più ancora il reverendo ha detto che per quel che riguarda il giubileo si se quell'assimo in mano di Dio perché l'imponderabile non dà la certezza e quel che mi ha fatto Piazzer che gli ha dito basta uno che fassi danni e mentre i politici che vengono qua dici non tutti quindi come che diceva anche mia mamma basta un pomo marzo in un cesto dei pomi sani ma in valora tutto il cesto quindi deve invertire questo inutile che vengi quei politici ne dici non tutti sono abbiamo visto che basta pochi basta un per fare tutto quel cine che è senato là a Parigi dopo per quel che riguarda l'integrazione il crocefisso questo e quell'altro la religione musulmana dici che loro devi convertire le persone e chi che non convertissi come che era anche trasmissioni per televisione robe del genere eccetera e che ha detto che fiume la pelle quindi qua integrare cosa vuol dire vuol dire adattarsi a un altro vuol dire concedere la religione purtroppo la religione musulmana non è di questo parere ok voglio chiedere che proprio il reverendo anni in Drio parlo di 20 30 anni fa i missionari i giovani preti che andava in Brasile e roba del genere i si lamentava presso la santa sede perché i vogliono essere armati dicendo che loro essendo presciti là fuori con questi con questi qua ecco che abbiamo visto preti morti e massati e roba del genere quindi i missionari adesso i muli giovani che va in seminario noi se lasciamo ammazzare e chiedi una dispensa perché per salvarsi la vita e volesse armare anche loro lui sa di questa tendenza se può dirmi grazie allora prima prima della risposta mentre c'era la telefonata mi sembrava di vedere apparire Sofia Loren invece è soltanto la nostra Annalisa Plett che è pronta credo adesso è sparita forse è caduta ah no 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 eccola qua no no che complimenti è solo Annalisa con gli aggiornamenti gli aggiornamenti meteo eccoci Umberto allora ricordiamo che per oggi sono previste condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti a carattere basso e stratificato per domani mercoledì 18 novembre sono previste ancora condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti con diminuzione però della nuvolosità le temperature sono anch'esse in diminuzione con minime di 11 gradi e massime di 15 venti deboli di direzione variabile mare quasi calmo o poco mosso visibilità da discreta scarsa con foschie anche dense per oggi è tutto vi restituisco la linea e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata se qualcuno pensasse che era una voce sexy è semplicemente un po' rauca allora non partecipo a questo massacro è un gioco che facciamo allora c'è la risposta a questo allora signor Bruno soprattutto sull'ultima parte fondamentalmente certo il signor Bruno ha toccato questo argomento ecco io a me non piacciono i titoli non sono fatto così però a onor del vero io sono per questa diocesi anche il direttore dell'ufficio di pastorale missionaria e quindi mi occupo di missioni ma questo mi ha portato anche quest'anno ad esempio all'incontro in Brasile al santuario di Apparecida all'incontro di tutti i missionari italiani del Sud America è stato un incontro che è stato fatto in gennaio la CEI la conferenza episcopale italiana aveva fatto una commissione inviata dall'Italia per assistere a questo convegno e io ero uno dei membri di questa commissione tocchiamo un argomento estremamente delicato ma al di là che io non so e non conosco questo fatto della preparazione nei seminari devo dire che se chiunque parli con un missionario anziano che ha fatto 30 anni o 20 anni o ancora di più di Brasile o anche penso a West Africa o penso a tutte le zone a tutte le terre di missione ecco certamente non si il suo discorso non si discosterebbe molto da quanto ha detto il signor Bruno nel suo intervento cioè ecco le modalità onestamente non le conosco so però per certo che perché con i missionari si parla anzi devo essere sincero è affascinante ascoltare la vita di queste persone di quello che hanno fatto ecco certamente si sono dovuti si sono trovati molte volte anche a difendersi a doversi difendere a doversi difendere tanti come ha detto il signor Bruno ci hanno lasciato la pelle perché anche nella zona del Kenya dove io mi sono recato lì c'è una missione anche della c'è una ex missione della diocesi di Trieste che perché dico ex perché il sacerdote che è Don Piero Primieri che è partito missionario in realtà ha aperto una parrocchia all'interno di una diocesi che si è occupato lui di costituire quindi oggi possiamo dire che c'è un prete triestino in una parrocchia diocesana del Kenya questa è la definizione giusta certamente culturalmente questa diocesi e molte persone sono legate a dire la parola alla missione in Kenya ecco se proprio dovessimo guardare dal punto di vista meramente legislativo cartaceo noi non abbiamo una missione in Kenya abbiamo un prete triestino fidei donum cioè che sta vivendo un'esperienza peraltro estremamente lunga perché sono più di 40 anni e ringraziamo il signore di questo esempio però lui è presente in una parrocchia all'interno di una diocesi ok c'è un'altra telefonata sentiamo buongiorno buongiorno prego buongiorno io volevo chiedere a don Alessandro una cosa io ho fatto l'esperienza di una carica parrocchiale per tanti anni purtroppo adesso ho chiuso questa esperienza bellissima volevo chiedere a don Alessandro noi accoglievamo chiunque in questa parrocchia chiunque aveva bisogno di assistenza per far conto senza vedere razza o da dove arrivava perché già il fatto che veniva da noi è importante e volevo sapere da don Alessandro cosa pensa e delle parrocchie che purtroppo adesso frequento un'altra parrocchia e accolgono solo i residenti della zona e questo purtroppo è quasi da tutto e volevo sentire la sua perché ormai io sono delusa completamente da tante situazioni volevo sapere cosa pensa don Alessandro sentiamo la risposta grazie signora buona giornata signora cara grazie di questo di questo argomento che tocca ma non sia delusa non sia delusa perché certamente ci sono tante parrocchie che fanno questa scelta però il sistema funzionerebbe se ogni le parrocchie coprono tutto il territorio diocesano ovviamente Trieste ha 52 parrocchie italiane e 13 parrocchie slovene e fanno 65 in totale se ognuno se ognuno curasse ma e dopo spiego una cosa se ognuno curasse le persone bisognose del proprio territorio e ovviamente il problema non si si porrebbe perché le persone andrebbero nella parrocchia di appartenenza e finisce la storia il problema quando sorge sorge quando non tutti possono aprire un servizio caritas o un servizio eminentemente di carità parrocchiale cosa voglio dire voglio dire che ci sono tante parrocchie che forse un tempo piuttosto che adesso fino a pochi anni fa dove magari c'erano sacerdoti molto anziani dove per una serie di motivi la parrocchia non aveva la possibilità di un approvvigionamento di cibo ad esempio oppure la parrocchia era andata incontro ad una serie di spese o di situazioni o il parroco magari già aiutava come tantissimi parroci fanno aiutava già alcune persone e fisicamente materialmente non aveva la possibilità di aiutarne ancora ecco io signora non entro nel merito della sua esperienza non so veramente onestamente di che parrocchia sia però devo dire che questo è molto diffuso il mio vecchio parroco lo cito Don Bruno Speranza è un parroco storico della nostra città con il quale io sono nato cresciuto è entrato in seminario purtroppo non diventato prete perché è mancato prima mi ha insegnato ad accogliere chiunque ad accogliere chiunque di qualsiasi nazionalità colore e rione della città e questo è uno stile naturalmente uno stile che adesso non voglio farla tanto grossa ma del quale ognuno risponderà davanti a Dio secondo le parole della parabola del racconto evangelico di Matteo al capitolo 25 quando si parla delle opere di carità quello penso sia un enorme banco di prova sul quale alla fine ognuno di noi dovremmo rispondere tanto più chi ha la responsabilità di una comunità chi ha la responsabilità anche di testimoniare un certo stile di accoglienza la realtà certamente come dice lei signora è assolutamente inequivocabile purtroppo io penso però questo ecco io parlo con tanti miei confratelli sacerdoti c'è qualcuno che veramente non dico che sta male però è fortemente dispiaciuto di non poter fare di più questo devo essere sincero ci sono tante persone tanti miei confratelli che vorrebbero aiutare di più ma si rendono conto anche del loro limite questa è una realtà che abbiamo certamente allora c'è ancora una telefonata facciamo così anche questa telefonata anche a questa telefonata rispondiamo dopo la pubblicità perché Don Alessandro rimarrà con noi un po' di più di quello che avevamo concordato quindi sentiamo quello che ha da dirci chi è in linea buongiorno buongiorno io sono indignato a sentire certe certe frasi se la signora che ha telefonato prima è indignata personalmente il suo punto di vista posso anche capirlo che tutti quanti da un ragionamento se questa se questa persona parlava a nome dell'idealismo a nome del del modo di ragionare a me mia mamma mi ha insegnato la roba che quando ti va a casa degli altri ti devi rispettare la casa degli altri se a un certo momento in piazza unità non mi piace i colori delle bandiere non vado in piazza unità eccolo a un certo momento la signora se torno a ripete se la parla di un suo punto di vista ma non è il mio che viva l'erba buono se invece la parla che è giusto che 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 sarei giusto cavare i crocifissi non non quello ma mettiamo in piazza l'unità 300 bandiere così rappresentiamo tutte le idee di tutti allora a un certo momento penso che come se si dice Trieste sarei rammorata perché torno a ripetermi ripeto a me mia mamma mi hanno imparato l'educazione e l'educazione è la prima roba che ti ho foto a casa di altri che dici buongiorno e ti rispetti l'ambiente del dono che ci sono ospite se non ti è comoda ti è saccata tua grazie e buona giornata buona giornata anche a lei ma era quello che diceva la signora onestamente però mi sembra di aver colto che questo ragionamento di questo signore era esattamente quello della signora precedente la signora era indignata del fatto che ci fosse qualcuno che volesse che volesse togliere non che volesse non che lei volesse non che lei volesse io avevo capito così credo sia la stessa la stessa la stessa cosa ecco insomma allora ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi rimaniamo assieme a donna Alessandro fino circa le 8 e 40 8 e 3 quarti insomma ok buongiorno cari telespettatori alle 13 e 20 come di consueto vi ricordo l'edizione pomeridiana del telegiornale al termine la replica della puntata di ieri sera del caffè dello sport alle 18 il programma del pomeriggio Trieste in diretta condotto da Viviana Facchinetti che ci racconta le storie dei giuliani nel mondo a seguire la rubrica apriti cielo alle 19.30 e alle 20.30 il telegiornale subito dopo qui studio a voi stadio con tutti gli aggiornamenti sul calcio alle 23 l'ultimo TG della giornata e alle 23.30 la replica di Trieste in diretta di lunedì buon proseguimento di giornata anche qui allora al rientro abbiamo subito un'altra telefonata credo pronto? si sento si prego buongiorno si buongiorno buongiorno si parlando volevo solo un chiarimento sul fatto degli abbonamenti che vengono dati a questi ragazzi ok qual è il motivo che viene dato questo abbonamento per tutta la rete di Trieste se devono raggiungere dei centri sociali delle mense delle scuole oppure a titolo turistico no solo questo ci viene fornito a loro un mensile per girare tutto il giorno quando voglio anche giustamente su questi autobus per raggiungere cose per andare dove ok la domanda non è posta male no 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 assolutamente anzi ma guardi le ripeto quello che ho detto prima ma con tutta tranquillità noi applichiamo un regolamento che ci è stato fornito e il regolamento dice che dobbiamo dare la tessera questo è nell'indice della mobilità cioè che le persone possano muoversi liberamente sul territorio dove vengono ospitate ora io immagino che lei a casa starà pensando quello che un po' penso anch'io perché noi va a piedi questo è guardi questo è il pensiero che tutte le persone che ho incontrato mi hanno fatto ad essere sincero io non ho la risposta in tasca so solo dirle posso solo dirle che questo fatto dell'abbonamento che di fatto se noi ragioniamo nell'arco di un mese diventa di un euro al giorno perché 34 euro al mese sono un euro al giorno questo euro al giorno è fatto perciò che si possano spostare con i mezzi certamente ecco io penso una cosa Trieste è una città molto piccola per certi versi Trieste insomma uno anche il centro a volte va più veloce a piedi che in autobus detto per inciso per cui forse questo fatto non è così forte è chiaro che siccome questo è un regolamento nazionale è chiaro che in città più grandi penso immediatamente Roma, Milano, Torino Bologna Napoli così è chiaro che può esserci un bisogno maggiore di una mobilità con gli strumenti con i mezzi terrestri che ci sono Trieste è certamente una città particolare rimane il fatto comunque che queste persone la convenzione prevede che siano che siano proviste di questi documenti di viaggio per spostarsi usando i mezzi pubblici scusate la crudezza c'è un obbligo c'è i soldi ci sono io ho il dovere di applicare l'obbligo lo applico punto e fine la realtà è questa c'è da dire anche questo che questo è un altro sono d'accordo con il signore scusami comunque con le sue perplessità la domanda che fa è certamente una domanda pertinente assolutamente c'è anche questo da dire poi poi chiudiamo è una delle tante circostanze in cui determinati fondi mettiamola così vengono stanziati per questo tipo non è che mettiamo con quei fondi Caritas o ICS può che ne so dotarsi dotare una struttura di una nuova cucina ed altro sono quei denari e questo è un discorso apri un discorso stratosferico enorme che dico in una battuta a chi ci segue non è vero non è vero che cioè quando io sento un politico che dice che quei soldi sarebbero potuti si sarebbero potuti utilizzare per un altro non è vero perché i soldi vengono dal ministero sono fondi a loro volta europei e sono fondi impiegati per questo altrimenti questi fondi non arrivano non sarebbero arrivati e quindi non è possibile deviarli su altre voci o capitoli di spesa piuttosto chi ci ascolta pensi che tutti quei soldi che arrivano comunque rimangono qui certo è lo stesso discorso che veniva fatto col Ponte Curto quando tutti dicevano se potrebbe far questo e con quei soldi c'è sempre qualcuno che sa cosa si potrebbe fare appunto c'è una battuta in un film americano tu sei un cultore di film dove veramente non ricordo chi c'è uno che dice che in america ci sono una valanga di persone che sanno benissimo che cosa debba fare il presidente degli stati uniti peccato che sono impegnati o a guidare un taxi o a tagliare i capelli sicuramente sarà Billy White l'autore mi sembra guarda che siamo vicini lo dico a livello di battuta naturalmente però l'ha detta allora c'è una telefonata che questa sarà l'ultima a cui risponde don Alessandro sentiamo pronto pronto buongiorno a tutti i due prego buongiorno mi so parli indietro si come no nessun problema mi perdo allora mi ho avuto fortuna di navigare tanti anni fa indietro nel tempo 50 anni fa e ho visto tanti posti hanno visto gli arabi hanno visto il giappone hanno visto il centro Asia hanno visto tutta l'Africa le qualità e diverse religioni e mai nessuna storia di questa roba oggigiorno mi domando come mai se un cristiano vai in Arabia non puoi andare nella moschea e non ha problemi magari dopo gira il cartone di Santa Dorsa una corte e le ha la saluto qua arriva migliaia di musulmani gli vogliono via la croce gli vogliono obbligare magari le bambine piccole a mettere il svelo e pian piano incomincia a aumentare il numero ma se rendi conto anche la chiesa cattolica che questa è una eliminazione dei cristiani come magari se rendita nei tempi dei templari nel 1200 quando i crociati vengono a uccidere un po' più in gara via di Rosaleve ben detta dopo 800 anni ma deve fare questo forse grazie un po' dura come no dura certamente io dico questo signore che ci ha chiamato anche io ho navigato sono stato ufficiale di coperta ho viaggiato con una compagnia triestina e per dieci anni ho lavorato in un'agenzia marittima qui a Trieste come water clerk lei che ha navigato saprà certamente che significa la persona che va fisicamente a bordo delle navi il mondo l'ho visto anch'io quello che lei dice è vero mi permetta se lo dico è vero fino a un certo punto nel senso che ad esempio io sono stato in Arabia Saudita a Jeddah a Yambu ecco se lei ha navigato sa che posti sto parlando vent'anni fa io sono andato in moschea sono sceso e certamente ho dovuto già che parliamo di navi ho dovuto mettere i simboli religiosi la medaglietta con la Madonna che ti protegge la Bibbia che avevo con me ho dovuto chiudere lì nel sigillo di Cambusa perché le autorità non permettevano questo ma come non permettono l'alcol non permettono un sacco di altre cose è altrettanto vero però che sono sceso a terra e non soltanto per leggere i pescaggi della nave parlo di navi commerciali e non navi turistiche e quindi certi posti è stato più facile e certi posti è stato più difficile quindi questo è un punto sul fatto che ci sia questa fortissima immigrazione è reale perché lo vediamo certamente guardi la chiesa non è da un lato è chiamata all'accoglienza è chiamata è chiamata a tendere una mano è chiamata a tutto però per noi Gesù Cristo è la verità la verità che si è fatta carne e la verità che si è fatta persona e le persone vanno aiutate nella carità ma vanno aiutate nella verità e aiutarle nella verità vuol dire aiutarle con la testa aiutarle con con certi criteri vuol dire anche smascherare e stare molto in guardia verso quelle situazioni che sono estremamente delicate che possono essere fuori aere di successivi guai certamente lei ha citato un movimento di persone mondiale ecco chi ha navigato sa benissimo che in tutte le civiltà del mondo in tutte le società del mondo c'è sempre stato un movimento di persone enorme adesso questo movimento che prima era quasi orizzontale che andava per parallelo per capirci adesso sembra quasi che vada per meridiano cioè che dal nord che dal sud scusi sempre vada più verso il nord è reale questo c'è però questo deve tenerci svegli deve metterci in guardia non soltanto essere passivi o accogliere passivamente ma anche smascherare tutte quelle false situazioni che possono portare a dei disastri io vengo da una famiglia di marittimi era marittimo mio padre che saluto penso ci stanno guardando mio zio i miei nonni e quindi so benissimo di cosa questo signore abbia parlato e ha usato le parole che io molte volte nella mia famiglia ho sentito per cui ecco lo saluto cordialmente da chi è fatto l'esperienza del mare come lei allora io ringrazio donna Alessandro Modeo per essere stato il nostro ospite deve a un altro impegno è rimasto anche un quarto d'ora in più rispetto al concordato donna Alessandro Modeo è direttore della Caritas di Ocesana allora intanto agevoliamo l'uscita di donna Alessandro quindi come diceva una volta Raimondo Viannello non vedo l'ora di dire telecamera su di me grazie ancora grazie ancora a donna Alessandro c'è una telefonata sentiamo poi casomai eventualmente la prendiamo come commento eventualmente pronto? pronto? si dica buongiorno signora si sono signora buongiorno come ha iniziato lei il programma che parlava delle aiuti alimentari nei supermarkets la raccolta che hanno fatto i volontari così volevo raggiungere che c'era anche una compagnia di ragazzi in varie parti che fanno parte del teatro Onlus oltre la sedia mi sembrava giusto dominarti ok perfetto perfetto donna Alessandro mentre usciva mi faceva anche mi faceva accenno di ringraziare anche per conto anche per conto della anche per conto della Caritas l'associazione oltre quella sedia che peraltro ne abbiamo ospitato che aiutano anche la Caritas nella corsa dei miracoli che è quell'appuntamento che viene in primavera se non mi sbaglio ok grazie ancora a Don Alessandro per essere stato con noi e adesso possiamo collegarci di nuovo con la sala operativa della polizia della polizia locale c'è il maresciallo Leonardo buongiorno maresciallo ci sono novità sul collegamento di prima? no rieccomi qua nulla è cambiato rispetto al collegamento che abbiamo fatto un'ora fa perfetto fortunatamente è tutto tranquillo meglio che non sia cambiato meglio che non sia cambiato niente effettivamente esatto grazie maresciallo buona giornata e buon lavoro buona giornata a voi arrivederci avete visto intanto possiamo rientrare in studio avete visto prima mentre parlavamo con Don Alessandro ogni tanto passavano delle 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 pagine interne del piccolo del Corriere della Sera consentitemi ecco di far vedere di far vedere questa voi sapete che insomma anche un po' per quella che è la mia formazione diciamo formazione culturale ma io sono sempre sensibile alle notizie che riguardano il cinema il mondo dello spettacolo e della cultura è scomparso ieri a 87 anni Nando Gazzolo Nando Gazzolo è stato un attore con il quale la mia la mia generazione è cresciuta interprete di tantissimi sceneggiati televisivi ma è stato soprattutto anche la voce il doppiatore di una enormità di enormità di attori sui quali citiamo due appunto su tutti David Niven in quasi tutti i film e Rex Harrison soprattutto in My Fair Lady e il doppiaggio di My Fair Lady da parte di da parte di Nando Gazzolo che comportava anche una rilettura dei brani musicali all'interno del film fu considerato talmente ottimo che lo stesso Rex Harrison inviò un telegramma di complimenti alla sua alla sua voce italiana insomma mi piace mi piace così ricordarlo così c'è un'altra telefonata pronto? 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 prego buongiorno adesso che è andato via don Alessandro ora è un problema la chiusura per lo smog allora io abito in via dei Baiardi e lei sa benissimo dove è via dei Baiardi già ai tempi di Bucci avevano chiuso la via dei Baiardi quando c'era lo smog praticamente noi di via dei Baiardi se non abbiamo una macchina nuova non possiamo uscire l'orione è un rione di persone anziane qualcuno a fare il pomeriggio a fare la riabilitazione o fare la fisioterapia o andare dal medico e capisco perché la via dei Baiardi che comincia in via Cantù e finisce in strada di Opicina deve risultare centro e il centro non è assolutamente centro per cui ho interpelato quella volta Bucci perché Bucci era assessore che ha fatto la chiusura del centro storico no? ho interpelato tantissimi altri politici di sinistra di destra di tutto il risultato è nullo io adesso questo problema non ce l'ho perché finalmente ho preso un euro sei però ci sono tante persone anziane che non possono comprare una macchina a 70 anni 80 anni uno non compra una macchina nuova e non possono muoversi di casa al pomeriggio questo non è giusto perché il centro chiuso finisce lì dell'Araq dove comincia via Valerio praticamente e di lì si può andare per quel pezzetto dove c'è la rotonda lì dove c'è quell'incrocio tra via Colonia via Fabio Sedero e via Valerio e via Cantù è chiuso e noi non possiamo muoverci è un'erta è molto è un'erta via Bagliardi è impressionante è come chiudere Scala Santa o via non so adesso non mi viene via dei Porta eccolo è veramente una stupidaggine e ormai sono parecchi anni sono 12-13 anni che abbiamo questo problema avete provato avete provato ad interessare la circoscrizione di questo di questo fatto sì 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 abbiamo provato ancora quando era sindaco quando era capogruppo Giorgi mi sono interessata personalmente perché qui non è che si interessano molto adesso io mi do da fare anche perché il mio no non è un problema mio e mi stimola ancora di più perché se no sembrerebbe sia un interesse no? posso capire vediamo casomai sì posso anche immaginare che poi peraltro sia un problema che possono avere parecchie strade per le quali insomma oggettivamente considerare via Bayardi centro è un po' strano è assurdo una volta Bucci sa che cosa mi ha detto era in campagna elettorale per la regione per cui quanti anni parliamo no? ecco mi fa beh ma se lei sale ma ci sono spesso i carabinieri su ho detto beh ma non le daranno la multa se dice che via Bayardi ma le regole sono regole io non mi muovo di casa se non non sono autorizzata a muovermi questo potrebbe essere così la chiudiamo in battuta potrebbe essere anche un problema dei triestini no? cioè proprio questo le regole e se regole e di fatto ecco proprio io purtroppo mio marito dice che non sono normale perché seguo sempre le regole e poco da fare la ringrazio a forza a forza di seguire le regole delle volte si sa dove va bene lasciamo stare ha capito dove volevo arrivare grazie signora buona giornata ha chiuso sì perfetto allora andiamo avanti ancora con le con le pagine e con le pagine dei quotidiani già che siamo vediamo cos'altro propone cos'altro propone la il Corriere della Sera nella pagina degli spettacoli questa è una cosa ecco questa è una cosa che potrebbe portare che potrebbe rivelarsi uno scandalo non da poco allora Charlie Sheen si ero positivo l'annuncio in tv Charlie Sheen è si ero positivo già è sparito il punto di domanda lo riferisce il sito TMZ secondo cui il divo americano farà l'annuncio ufficiale questa mattina in diretta tv sulla NBC durante il programma Today è stata messa in rete è stata la stessa rete statunitense a parlare di un clamoroso annuncio da parte della star di due uomini e mezzo della sitcom Angel Management figlio dell'attore Martin Sheen Charlie Sheen 50 anni sarebbe a conoscenza del suo status da più di un anno e avrebbe firmato pagando accordi di riservatezza con ex partner per transare eventuali cause in sede extra giudiziale è una notizia la si era un po' intesa anche su internet in questi giorni secondo cui un attore molto famoso avrebbe avuto questo problema certamente ciò apre tutta una serie di considerazioni che per certi aspetti sembrano quasi portarci indietro di 20-25 anni c'è una telefonata buongiorno buongiorno prego meno sono siero positivo per fortuna volevo porre una riflessione più che una domanda a Don Amodeo e non c'è più allora mi risulta che solamente la religione cattolica escludendo la religione cristiana in toto diciamo l'evangelica luterana e altre e la religione musulmana delle uniche religioni in pratica che se da tanto di parte è per evangelizzare diciamo gli impedeli chiamiamoli così oppure quei animisti popolazioni oltre l'oceano gli si è da tanto dato di fare tanto dato di fare creando anche problemi enormi nei secoli passai uccidendo uccidendo popolazioni sterminandole mi non arrivo a capire per qual motivo le uniche due religioni monoteiste che oltre quella ebraica le si è da tanto di fare per evangelizzare una risposta non so se me la puoi dare l'ospite ma è una mia considerazione non c'è più non c'è più don Avodeo vede che non c'è però è una riflessione diciamo così visto che non può esserci una risposta c'è da dire io adesso non sono né uno storico né uno storico delle religioni eccetera c'è da dire che la religione cattolica da secoli non evangelizza più in un determinato modo pare che certe frange della certe frange islamiche intendano l'evangelizzazione nel modo in cui in cui la intende l'isis e questo è questo è un altro è un altro problema insomma allora c'è un'altra telefonata pronto pronto buongiorno sono Francesco pronto prego prego buongiorno sono Francesco Ferfoglia buongiorno salve siccome avevo 5 minuti di tempo da dedicarvi allora siccome andare a fare la spesa siccome don Alessandro è andato via pastor pastore nauta siccome conosco molto bene la sua famiglia però mi rivolgo al bosazzo il nostro è molto sensibile a certi argomenti lasciando da parte tutti quanti gli altri pesanti allora ieri sera ascoltato Ring ho sentito evidenziare le caratteristiche positive di tutti quanti i nostri sport cittadini però purtroppo non ho sentito dire una parola a parte l'articolo sul piccolo dei nostri meravigliosi dei nostri meravigliosi ragazzi canottieri del Saturnia il ciclo marina il martini prestato a Padova che sono andati a difendere i colori della nostra città e del nostro paese in Perù accolti in una maniera meravigliosa dalla nostra comunità italiana eccolo se se le quattro che è sensibile a questi argomenti e che le stesse guardi noi li abbiamo una barriera si dedica a sé una trasmissione a una realtà molto conosciuta molto faticosa ma che ci onora in una maniera enorme guardi noi credo quest'estate ancora penso settembre forse tarda estate abbiamo dedicato una puntata di Trieste in diretta proprio alla squadra eccetera e ci avevano raccontato anche che avevano anche dei problemi per organizzare la trasferta in Perù risolti risolti di cittadini sensibili che hanno aiutato noi in quella circostanza adesso non so per l'amor di Dio non è che voglio attribuirmi chissà cosa però anche se c'è qualcuno che può aiutarli in qualche modo lo faccia quindi a maggior ragione complimenti a questi ragazzi che io ne avevo uno ospite che mi sembrava anche un ragazzo anche molto pulito nel senso migliore del termine quindi complimenti doppi sia per il risultato ottenuto ma anche sia per aver diciamo così insistito ed essere riusciti ad andare in Perù che sarebbe stata già una piccola vittoria mi pare ok grazie Ferfoglia buona giornata c'è più qua la gente va viene se ne va non saluta eccetera allora ci fermiamo per un po' di pubblicità poi riprendiamo e come ogni come ogni martedì l'appuntamento dalle nove alle nove e mezza circa e con i nostri amici a quattro zampe avremo con noi ospite la dottoressa la dottoressa Rossi che verrà accompagnata dai dai suoi cagnolini uno si chiama Roda io non riesco mi pare che si chiami Mafalda la cagnolina femmina ci vediamo tra un paio di minuti allora come annunciato siamo in compagnia della dottoressa Fulvia Adarossi veterinaria e di Erode Mafalda mi sono ricordato bene dei nomi per la prima volta quindi va bene e già la giornata inizia inizia col segno più allora dottoressa parliamo intanto prima di parlare ancora una volta di cinghiali perché c'è stato un altro fatto di cronaca che riporta l'attenzione sull'argomento c'è un altro argomento del quale non abbiamo mai parlato e anche in questo caso possiamo parlarne diciamo così collegandoci un po' alla cronaca collegandoci anche alla scomparsa di Moira Orfei cioè parliamo anche un po' di circhi c'era un bellissimo documentario un paio di anni fa che io vidi lo diedero su Rete4 diretto questo documentario da uno dei figli di Mike Bongiorno proprio sulla diciamo così la giornata tipica di un veterinario di un circo non so se era il circo di Moira Orfei o di non so di il circo Togni e queste cose qua come funziona appunto la la faccenda ogni circo deve avere un veterinario che segue il che segue appunto le tournee eccetera quando un circo arriva in una città deve rivolgersi a un veterinario di come funziona la questione in parte è tutto vero allora facendo la premessa che speriamo che i circhi con animali si convertano tutti a circhi con con le persone ed eventualmente con i cani perché i cani sono talmente socializzati con l'uomo che è un altro discorso per cui si potrebbero fare delle bellissime rappresentazioni degli spettacoli con l'ausilio di cani e per questo non mancare a loro di di rispetto perché gli animali che invece vengono associati al circo classico purtroppo possiamo anche dire che vengono rispettate le condizioni minime per il loro benessere ma non saranno mai rispettati e tutelati quanto dovrebbero quindi è vero un po' tutto nella misura in cui quando un circo si sposta ha un a un registro degli animali che porta con sé questo perché tutti gli animali sono microcippati identificati per cui lo stesso microcipp che noi mettiamo ai nostri cani e ai nostri gatti viene applicato anche alle tigri alle giraffe agli elefanti o quel che deve essere informata l'azienda sanitaria della città nella quale il circo entra questo anche proprio per fare delle verifiche nel senso che bisogna che il posto che viene dato al circo abbia determinate specifiche tra cui ovviamente la disponibilità di spazi per realizzare recinti nei quali queste povere bestie che poi avranno fuori dagli spettacoli quel minimo di libertà alle quali hanno diritto in realtà io non credo non lo so però non credo che un circo si sposti con un veterinario al suo interno in maniera fissa capito seppure quello non era forse anche un caso adesso io non ricordo poteva essere un caso molto particolare molto specifico e quindi degno anche di un'attenzione documentaristica poteva anche dare sì nel senso che sicuramente un circo ha il proprio veterinario di riferimento questo perché come io ho per me la preferenza per un determinato professionista che mi dà fiducia e ha competenze per quella determinata specie perché ricordiamo appunto nei circhi purtroppo ci sono animali che non sono cani e gatti quindi vado in un'altra città e posso sicuramente trovare il professionista che è capace di diagnosticare e curare una patologia quando si tratta di avere un elefante non è che lo posso portare tra l'altro sono animali che hanno un valore economico ben diverso da quello che può avere un cane o un gatto questo è anche triste da sottolineare esatto e quindi le cure alle quali vengono sottoposti sono sicuramente cure volte al mantenere il loro stato di salute e al salvaguardare l'investimento che è stato fatto nei termini dell'acquisto nei termini dell'ammaestramento di questi animali perché sostituire un animale da circo non è cosa semplice e perché lo devo ammaestrare a fare quel determinato numero e perché devo abituarlo a convivere con gli altri per cui è tutta una serie di cose quindi sono animali che hanno un grande valore di conseguenza pensare di pagare la trasferta al veterinario che mi viene da Milano sulla Sicilia è una cosa assolutamente comprensibile e fattibile perché ci sono appunto questo discorso economico diciamo così che entra in circo è una cosa che succede anche per i cavalli spesso e volentieri anche i cavalli hanno un valore oltre che affettivo se sono cavalli agonisti un vero valore commerciale c'è una scuderia che ha un veterinario di riferimento o un ipodromo che si parli o di maneggio quindi scuderia o di ipodromo se c'è una determinata problematica spesso e volentieri si fa arrivare un professionista anche da lontano perché quell'animale ha un valore commerciale superiore a quello e ci siamo dottoressa così sempre più sempre più spesso si vede nel insomma io ho la mania che rimango a leggere i titoli di coda dei film ma insomma questa è una mia ci sono anche delle come dire delle prescrizioni insomma che riguardano anche lo sfruttamento degli animali per scene cinematografiche eccetera e credo sia una realtà nemmeno tanto nuova perché sarà almeno una quarantina d'anni che io vedo queste scritte nessun animale è stato eccetera eccetera ci sono perché chiaramente si aveva il dubbio lecito di sapere che fine avessero fatto quegli animali se fossero stati maltrattati o a volte appunto si vedono animali incidentati quindi si pensa quindi giusto garantire allo spettatore che questo non è che è stato tutelato il benessere quindi anche su set cinematografico c'è sicuramente un veterinario di un'azienda sanitaria o è che può andare a fare della produzione che garantirà e un altro che invece verificherà e certificherà che ciò non è avvenuto cosa che avviene appunto anche nei circhi o dovunque ci sono rappresentazioni con animali anche nei quando una volta c'era all'interno delle fiere l'esposizione di animali anche lì il veterinario dell'azienda sanitaria o adesso le guardie zoofile avevano il compito l'obbligo di andare a verificare come erano detenuti questi animali e sempre già che ci siamo per invece manifestazioni dove ogni tanto invece tipo faccio un esempio Paglio di Siena là come funziona? La funziona che ci sono dei veterinari ovviamente lì sì c'è il veterinario presente perché purtroppo il Paglio sappiamo che è una circostanza nella quale sono molto frequenti gli incidenti non più tardi di quest'anno in uno dei due è successo e sono quelli dei quali noi abbiamo notizia chiaramente sono quelli più gravi quelli che portano spesso e volentieri al decesso dell'animale ma magari invece ci sono cose molto più lievi ma ripeto di nuovo siamo di fronte ad animali che hanno un grosso valore commerciale e quindi vanno tutelati quindi in queste circostanze c'è il veterinario della scuderia che è quello che conosce l'animale così il veterinario invece che fa le verifiche controllore controllato non possono coincidere ovviamente certo sì per quella che è la sua conoscenza questa è una cosa che non ho mai chiesto chissà perché poi quando noi vediamo per esempio nei film che ne so un cavallo che cade a terra perché magari viene virgolette colpito da una fucilata eccetera come ammaestrati sono cavalli fantastici sanno cadere ah perfetto poi proprio penso che al giorno d'oggi possono essere anche montate delle cose o modificate col computer però esistono dei cavalli rarissimi e di conseguenza noleggiarli per cui erano pregiatissimi erano ammaestrati e sapevano cadere c'è una telefonata pronto prego volevo chiedere alla vetrinaria una robetta piccola piccola si preoccupa io ho un cagnolino un malpese tutto bello rizzoluto e devo comprare il cappottino quando lo faccio uscire dopo perché prima avevo un pechinese e non ho mai comprato il cappottino usciva con la neve era meraviglioso ma questa no è delicata è così cosa devo fare devo comprare un cappottino io mi sono già espressa molte volte secondo me sì perché gli animali oramai vivono a stretto contatto con noi per cui immagino che la sua cagnolina viva in appartamento possibilmente venga sul divano e avrà una cuccia calda e lei a casa sicuramente quando esce per portarla a fare la passeggiata metterà un giubbotto addosso per cui è vero che hanno il pelo e che le due razze che lei ci ha citato hanno il pelo lungo per cui è come se avessero un cappotto naturale tuttavia vivendo in ambiente casalingo quindi con temperature più alte tendono anche loro ad avere meno sottopelo e di conseguenza sì magari non lo dimostrano non tremano però una cosa dignitosa per cui non non capottini di quelli con strass e paillettes e cos'è il genere ma io ai miei ecco metto un banale maglioncino che non è oppure quando piove l'impermeabile perché poi dopo portarlo su se non riesco ad asciugarlo rischio anche di lasciarlo umido e quindi non è il freddo che ha preso ma l'umido che si tiene a casa che può fare ancora più danni quindi una cosa adesso queste non sono temperature da capotto decisamente queste sono temperature nelle quali tutti i cani anche il pelo raso possono uscire ma se arriverà il freddo magari una cosa un pochino perché quando avevo il pechinese il veterinario non lasci stare lui al velo lo lasci stare andava con la neve poi gli si appiccicava tutta la neve addosso veniva a casa in vasca perché bisognava lavarla esatto non si è mai ammalato ma sicuramente però le toccava lavarlo tutte le volte allora può essere anche una questione di comodità qualche volta soprattutto quella dell'impermeabile nel senso che se non voglio dovermi dedicare mezz'ora col phon l'asciugamano ad asciugarlo gli metto un impermeabile faccia questa faccia questa spesa insomma va bene va bene grazie 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 signora chiudiamo questo discorso allora su che abbiamo incominciato prima e finiamo eventualmente con gli zoo Trieste non ha uno zoo ma immagino che anche le città dove c'è uno zoo anche là ci siano forse anche più di un veterinario assolutamente sì di nuovo gli zoo mi vedo cioè se mi si chiede cosa penso degli zoo sono contraria nella misura in cui siamo nel 2015 tutti hanno accesso alla televisione a internet e quindi la possibilità di vedere gli animali c'è non si tratta più di libri in bianco e nero da andare a consultare in biblioteca per cui il leone e la giraffa erano qualche cosa di esotico che si vedeva una volta nella vita andando in gita allo zoo per cui l'esistenza degli zoo non dovrebbe più esserci perché non tutti hanno la fortuna di potersi permettere un viaggio in Sudafrica per vedere i leoni magari questo io posso capirlo d'altronde non capisco e non accetto il costringere un animale che in natura non vive limitato di nuovo cambia che hanno la possibilità questi animali in natura non si costringono anche se lo spazio è largo ecco per cui allora mi è capitato tornando al discorso del veterinario degli zoo di andare con una collega qualche mese fa allo zoo di Lignano che peraltro è uno dei meglio tenuti meglio gestiti che ci siano a verificare lo stato di salute della leonessa perché aveva determinati problemi assolutamente non gravi ma proprio perché è molto ben tenuto e organizzato il gestore dello zoo chiama il veterinario per fare determinati accertamenti ovviamente la leonessa deve essere addormentata perché non si tratta anche penso fosse un animale ammaestrato per fare quel che si doveva fare non si poteva farlo da sveglia e quindi vedere una creatura così splendida così meravigliosa costretta in uno spazio che per legge perché la legge autorizza questo tipo di spazi non è che loro sono cattivi e quindi è molto più piccolo di un campo da calcio ma molto più piccolo è una cosa che per me è inammissibile perché io capisco la curiosità di vedere ma è come un po' quelli che hanno la curiosità dell'orrore dell'orido che vanno a vedere sui luoghi degli incidenti cioè cosa c'è da vedere quelli che guardano Barbara d'Urso ma è anche facile come battuta questo mi rendo conto e quindi quindi no gli zoo hanno tutti un veterinario di riferimento di nuovo per le diverse specie perché poi in uno zoo ce ne è veramente tante chiamano lo specialista di quella specie gli zoo esisteranno o non esisteranno i circhi ripeto secondo me dovrebbero esistere convertirsi a circhi senza animali si sta andando più o meno verso questo gli zoo laddove tra l'altro una cosa che va specificata è che gli animali feroci le belve feroci che ci sono agli zoo ma tutti gli animali le giraffe non sono presi da condizioni naturali sono animali che nascono in altri zoo e vengono ceduti questo proprio per garantire agli animali che nascono che devono essere sempre il minor numero possibile infatti si cerca di sterilizzare questi animali con metodi chimici o fisici dovessero nascere però di ricollocarli in altri zoo perché non possono essere in propria natura si è una figura e proprio per evitare di dover andare a catturare altri animali negli zoo potrebbero però serenamente vivere caprete tibetane potrebbero vivere serenamente tartarughe e quindi non che debbano chiudere e finire una riconsiderazione però diciamo a finire cioè quelli che sono negli zoo sono detenuti bene perché veramente non gli manca nulla quello che gli manca secondo me è lo spazio per cui poter espletare i loro comportamenti anche semplicemente movimento gli elefanti si muovono per chilometri e chilometri in natura in una zona non sarà mai possibile per quanto sia splendido meraviglioso e ben gestito c'è una telefonata pronto? caduta? ah è caduta persa speriamo non si sia fatta male questa è un'altra battuta oggi poi mi vengono così scusate c'è un altro problema che poi insomma non è che sia un altro problema c'è un'ulteriore puntata se vogliamo di un problema di cui di cui si discute ogni tanto è successo l'altra mattina in zona in zona Miramare in pratica un cinghiale investito la dinamica non è chiarissima comunque un cinghiale investito da un'automobile è andato a finire in mare eccetera poi è morto poverino insomma nonostante poi fosse stato appunto ripescato eccetera e ancora la questione appunto dei cinghiali che sono troppi dei caprioli che sono che sono troppi perché anche quelli a Miramare si era letto purtroppo sì le ultime settimane esatto quelli per andare a bederarsi vanno a scivolano nella fontana quella che c'è davanti al castello e poi non sono in grado di uscire anche perché sono animali che non sono abituati a stare appunto nell'acqua non sanno muotare è un istinto naturale sì quello di non affogare però poi nel momento in cui insorge il panico per cui si accorgono di non riuscire ad uscire sì sì il solito discorso esatto il solito discorso è che i cinghiali sono troppi i caprioli sono troppi dicevamo prima i caprioli fanno meno paura fanno molta più tenerezza in realtà fanno anche loro dei danni capriolo e bambi capriolo e bambi da piccolo i caprioli fanno dei danni agli agricoltori perché sono capaci in una notte di far fuori un campo di verdure o un raccolto di frutta e quindi a noi sembra solo che siano meravigliose craturine che non danno nessun problema perché capriolo non viene di certo ad incornarci come invece fa il cinghiale ma non sono del tutto innocui nemmeno loro i cinghiali a quel che mi risulta non si è fatto da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta alcunché ma non vorrei sbagliarmi se c'è qualcuno che ha notizie diverse in merito ce lo comunichi ricordo sempre il cinghiale ha un tasso di riproduzione che è quello di un maiale per cui veramente velocissimo il tasso al quale si incrementa questa popolazione non ha nessun nemico naturale se non le macchine purtroppo sul nostro territorio non ci sono lupi che li mangiano o altre cose e di conseguenza il fatto che il cinghiale si è caduto in mare a miramare poi l'empa ha cercato di recuperarlo e purtroppo l'ha recuperato quando era già deceduto ci dice che sono sempre più inurbati ci dice che si perché si è arrivato fino là esatto quindi è una cosa che è chiaro che un animale in difficoltà va soccorso sempre e comunque però bisogna trovare il modo e la maniera di limitare il nascito di questi animali e anche poi come sempre la gente dovrebbe astenersi da mangiare eccetera questo è un po' è un po' così ma l'ultima volta che ci siamo visti dottoressa avevamo incominciato ad accennare poi dopo non abbiamo non c'era tempo per farlo più diciamo così più a lungo alla questione appunto animali sugli autobus come ormai salgono salgono hai dato per assodato insomma sono soddisfatti devo dire perlomeno quelli con i quali posso aver avuto modo di relazionarmi per cui museruola o borsa nei casi si tratti di gatti o di cani di piccola taglia non più di uno per per autobus usando il buon senso non negli orari di punta perché altrimenti si andrebbe ad incorrere in schiacciamenti stritoramenti e cose del genere e direi che è un segno di civiltà dal mio punto di vista perché questo consente la signora quella nello spezzone prima si lamentava che la via dei bagliardi è una macchina finalmente le persone che non hanno la macchina o non si possono spostare in macchina possono portare i propri animali possono portarsi l'animale per fare una passeggiata c'è una telefonata pronto? pronto? prego buongiorno vorrei parlare con la veterinaria per piacere prego buongiorno sì grazie allora io ho un piccolo cagnetto bestardino ha 12 anni ed un periodo di tempo ha sempre questa tremarella e invece non so cosa fare non ce l'aveva da giovane? no 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 mai adesso ultimamente ogni tanto le prende questa cosa gli animali anziani come le persone anziane spesso hanno dei dolori artrosici per cui si potrebbe trattare o di una chiaramente lui non ci dice mi fa un po' male la spalla per cui potrebbe essere un dolore non così grave dal causare una zoppia ma grave da dargli un disagio per cui il tremare per un animale esprime non soltanto o freddo ma esprime un malessere un mal stare gli animali tremano anche quando hanno paura non soltanto quando hanno freddo quindi l'avere un malessere del quale lui chiaramente non sa dare una spiegazione al proprietario potrebbe essere una di queste cose qui le ringrazio tanto dottore grazie infinite buongiorno grazie dovrebbe comunque portarlo dal veterinario potrebbe portarlo dal veterinario perché si può qualche volta fare una prova esistono degli antinfiammatori anche per loro ricordo sempre di non prendere gli antinfiammatori per umani e darli a cani e gatti perché si possono fare grossi grossi danni ecco è tipo l'asonil ecco no soprattutto non le creme ah ecco no ma tanto per fare un esempio il dare delle gocce di tachipirina a un gatto vuol dire farlo fuori non sarebbe mai in mente nemmeno e invece qualcuno magari viene in mente proprio perché le gocce di tachipirina si danno anche i neonati e quindi ah sì sì uno può uno può pensare gli do due gocce di tachipirina cosa vuoi che gli faccia al massimo gli fa bene il gatto ha un suo sistema enzimatico del fegato che non è in grado di metabolizzare il paracetamolo che è il principativo della tachipirina quindi io capisco di essere sicuramente ben ben intenzionati però farò una passata dal veterinario soprattutto con gli antidolorifici e gli antinfiammatori gli antibiotici è un altro discorso ma gli antinfiammatori si può fare veramente dei grossi danni dottoressa grazie per essere stata con noi ci vediamo anche la prossima settimana anche la prossima settimana allora io vi ricordo soltanto un paio di appuntamenti come sempre il telegiornale alle 13.20 alle 19.30 quest'oggi c'è Trieste in diretta la puntata del martedì e quella dedicata da un po' di settimane ai giuliani nel mondo quindi ci sarà Viviana Facchinetti sveglia Trieste torna domani se non mi sbaglio l'ospite sarà il consigliere regionale di Forza Italia Rodolfo Ziberna grazie a tutti passate una buona giornata grazie ancora dottoressa grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti